ciao a tutti ciao amici bentornati sul mio canale oggi sono molto contenta perché ho appena preso le ultime novità le novità di clarence sono andate in profumeria non ho resistito e una cosa che mi ha fatto molto sorridere che sono andata la in cerca di comprare qualcosa di primaverile da farvi vedere ma non sapevo che stavano preparando il bellissimo post dove avrebbero proposto le novità di clarence ho detto il post più efficace di sempre non l'hai ancora mandato e le sto già comprando e ovviamente non ha resistito e ho comprato tutte e tre le opzioni ve li faccio vedere subito perché non sto nella pelle praticamente ho preso questo biutino con dentro il comfort scrub e il latte detergente e il tonico però è leggerissimo mi viene troppo da ridere perché praticamente appena sono arrivata a casa questa dimostrazione che era super cute mia figlia non ha resistito e non ho potuto dirle di no e mi ha detto mamma mamma me ne dai subito uno dei tre e si è presa quello contenuto all'interno ce l'ho qua per farvelo vedere il latte detergente e il il tonico glielo ho preso un attimo dopo glielo ridò e il tonico appunto il latte detergente contenuto all'interno e il beauty gli ho detto resisti un attimo poi te lo do è molto carino ve lo faccio vedere subito è una borsettina che sembra quasi di cotone secondo me potrebbe essere proprio di cotone ed è molto carina pur happiness c'è scritto e mi sa oltre che di primavera anche molto da mare perché ha questa il cursore in corda tipo le corde degli yacht delle barche e delle borse appunto quelle estive molto molto carino molto estivo e all'interno contenuto appunto nella velina ce n'è ancora un prodottino lo scrub mia figlia ha preso al volo gli altri due perché voleva sentire subito se la profumazione era identica al precedente si è sempre buonissimo non cambia mai e poi adatta comunque anche alle pelli più giovani perché il diciamo la pulizia del viso male non fa con un po di cotone ci si puliscono si si pulisce il viso non fa male non va sicuramente a far bene e toglie tutte le cellule morte l'inquinamento e quindi si è spoilerate mi ha spoilerato subito il contenuto della prima del primo sacchettino però ce ne sono altri due molto carini allora questo è uno ed è bellissimo è molto conveniente come prezzo perché praticamente pagate meno dei due prodotti contenuti all'interno li pagate cioè all'interno avete in omaggio il dove l'ho messo anche che qua se no il bustone che faccio cadere il tun butto giù polla stavo per dare uno spinto nell'orso della tun allora praticamente questo che sono 15 ml di prodotto è totalmente in omaggio ed è un esfoliante un comfort scrub un olio per fare lo scrub ed è questo è totalmente in omaggio e anche la bustina la pochettina è in omaggio ovviamente e andate a pagare una parte secondo me neanche tutta dei prodotti contenuti all'interno perché pagandoli con il il combo della box si vanno a pagare meno che comprati singolarmente e sommati quindi sempre convenienti e la profumazione è sempre buonissima io a me piace anche sentire latte detergente così direttamente sulla mano per rendermi conto e la profumazione è buonissima ecco andrà a sciacquarmi magari però sì non è che alla fine non fa male se anche lo provate un attimo sulla mano magari se vi fanno sentire se avete il dubbio se vi piace la profumazione in negozio potete provare a vedere se vi fanno sentire la profumazione io già la conoscevo è buonissima e la potete provare così su una mano però buono 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 e anche il tonico è sempre buonissimo perché sa anche un po' di erbe mi dà proprio quel senso di prendersi cura mi piace tanto anche l'olio per le gambe hanno sempre queste profumazioni molto decise e l'altra confezione è molto simile però la pochettina è un po' diversa è sempre rosa ma è più morbidosa più spugnetta allora andiamo a toglierle tutte e poi le apriamo perché se no lo spazio è poco qua per farvi vedere ecco la seconda sempre spugnettosa e poi c'è anche una terza cosina qua che avevo conservata per farvi vedere ma ve la faccio vedere in questo video anche se è di un altro brand e come sempre ovviamente mille profumini mille omaggi sempre molto graditi grazie grazie all'interno poi quando si arriva a casa si trova sempre tutti i campioncini omaggio poi ovviamente appoggiamo il sacchettino come con tutti gli acquisti a seconda della fascia prezzo cambiano anche l'importanza degli omaggi ecco io li ho presi tutti e quindi ho ottenuto anche una pochettina in omaggio bellissima oltre appunto alle pochettine che ci sono qua poi dipende sempre gli omaggi come sapete sono sempre secondo me fino ad esaurimento scorte quindi poi cambiano infatti a me piace anche andare a vedere ogni tanto a comprare qualcosa di nuovo perché cambiano appunto anche gli omaggi e sono sempre molto carini per esempio stavolta mi hanno dato molto bello questa borsina dove io ho scelto poi di mettermi i miei pennelli da viaggio perché mi piace il fatto che sia così con la manica e mi dà proprio un'idea di lancome molto bellina appunto mi dà l'idea di un biutino da viaggio ecco lo mettiamo qua perché è molto carino con Paul che sogna di andare in vacanza se le cose si sistemano un po' in generale forse torneremo anche tutti un po' a viaggiare apriamo questa qua che non vi ho detto le quantità giusto prima qua sono la full size quindi grande grande il latte detergente è 200 ml il tonico 200 ml e il comfort scrub è 15 ml quindi prodotto ce n'è in quantità qua abbiamo lo stesso un latte detergente la lozione tonica che male non fa perché noi ne consumiamo una marea e poi c'è il sapone praticamente il tonico e poi il sapone idratante il detergente è schiumogeno idratante la cosciettina mi è piaciuta tanto è proprio bella è molto come dico io coccolosa morbidosa ed è molto mi piace ho notato adesso che c'è scritto che è fatta con materiali riciclati e quindi rispetta anche l'ambiente è molto carina fibre riciclate c'è scritto anche dentro protetto dalle veline troviamo un altro latte detergente un tonico e il tubo da 30 ml di sapone schiumogeno e poi l'altro che volevo aprire con voi ha la stessa cosciettina ma i prodotti contenuti all'interno di questa sono differenti c'è l'acqua micellare la lozione tonica e un peeling un gommage ecco qua l'acqua micellare è comodissima anche questa ecco barattoloni giganti sicuramente super conveniente e c'è la crema per fare il peeling doccia da 15 ml quindi piccina come questo qua prezzi super convenienti io consiglio sempre di prendere queste box così che sono molto comode e ci sono anche i biotini sicuramente si vanno ad utilizzare ecco bene quindi con Clarence di Clarence vi ho fatto vedere praticamente tutto e il contenuto dell'altra scatolina me la faccio vedere in una seconda parte di video questo è quanto per il mio super acquisto sono impazzita sto giro li ho presi tutti però secondo me è super conveniente alla fine chi più spende meno spende dopo perché ha comunque da un punto di vista di convenienza sulla quantità e poi li ha lì la durata questi verranno aperti man mano con l'utilizzo intanto sono state aperte due confezioni sono sempre convenienti quindi queste pochettine escono comunque a periodi in primavera oppure in autunno e quindi appena escono sono sempre io le straconsiglio sono molto convenienti quindi ragazzi che dire con questo video spacchettamento di Clarence è tutto e ci vediamo insieme al prossimo video un bacio come sempre dalla vostra Lallix e ci vediamo insieme